Ecco qui, siamo arrivati verso l'orto di zio e abbiamo racconto questa popò di grazia di Dio sempre all'orto di zio, abbiamo lo zaino pieno, come ultimo giorno non c'è male, peccato che ce ne dobbiamo andare la nuvia ci aspetta, compreso Daniele e Cristina, se la nuvia come metto un padella